Catechismo della Chiesa Cattolica Paragrafo 2 Il Padre Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo I cristiani vengono battezzati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Prima rispondono, io credo, alla triplice domanda con cui ad essi si chiede di confessare la loro fede nel Padre, nel Figlio e dello Spirito. La fede di tutti i cristiani si fonda sulla Trinità. I cristiani sono battezzati nel nome e non nei nomi del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Infatti non vi è che un solo Dio, il Padre Onnipotente e il Figlio Suo Unigenito e lo Spirito Santo, la Santissima Trinità. Il mistero della Santissima Trinità è il mistero centrale della fede e della vita cristiana. È il mistero di Dio in sé stesso. È quindi la sorgente di tutti gli altri misteri della fede. È la luce che lo illumina. È l'insegnamento più fondamentale ed essenziale nella gerarchia delle verità di fede. Tutta la storia della salvezza è la storia del rivelarsi del Dio vero e unico, Padre, Figlio e Spirito Santo, il quale riconcilia e unisce a sé coloro che sono separati dal peccato. In questo paragrafo si esporrà in breve in qual modo è stato rivelato il mistero della Beata Trinità, come la Chiesa ha formulato la dottrina della fede in questo mistero e infine come attraverso le missioni divine del Figlio e dello Spirito Santo Dio Padre realizza il suo benevolo disegno di creazione, redenzione e santificazione. I padri della Chiesa fanno una distinzione tra la teologia e l'oiconomia, designando con il primo termine il mistero della vita intima del Dio Trinità e con il secondo tutte le opere di Dio con le quali Egli si rivela e comunica la sua vita. Attraverso l'oiconomia ci è rivelata la teologia, ma inversamente è la teologia che illumina tutta l'oiconomia. Le opere di Dio rivelano chi Egli è in se stesso e inversamente il mistero del suo essere intimo illumina l'intelligenza di tutte le sue opere. Avviene così analogicamente tra le persone umane. La persona si mostra attraverso le sue azioni e quanto più conosciamo una persona, tanto più comprendiamo le sue azioni. La Trinità è un mistero della fede in senso stretto, uno dei misteri nascosti in Dio che non possono essere conosciuti se non sono divinamente rivelati. Indubbiamente Dio ha lasciato tracce del suo essere trinitario nell'opera della creazione e nella sua rivelazione lungo il corso dell'Antico Testamento. Ma l'intimità del suo essere come Trinità Santa costituisce un mistero inaccessibile alla sola ragione, come pure alla fede di Israele, prima dell'incarnazione del Figlio di Dio e dell'invio dello Spirito Santo. La rivelazione di Dio come Trinità Il Padre rivelato dal Figlio In molte religioni Dio viene invocato come Padre. Spesso la divinità è considerata come Padre degli dèi e degli uomini. Presso Israele Dio è chiamato Padre in quanto Creatore del mondo. Ancor più Dio è Padre in forza dell'alleanza e del dono della legge fatto Israele, suo figlio primogenito. È anche chiamato Padre del Re d'Israele. In modo particolarissimo, Egli è il Padre dei poveri, dell'orfano, della vedova, che sono sotto la sua protezione amorosa. Chiamando Dio con il nome di Padre, il linguaggio della fede mette in luce soprattutto due aspetti. Che Dio è origine primaria di tutto e autorità trascendente e che al tempo stesso è bontà e sollecitudine d'amore per tutti i suoi figli. Questa tenerezza paterna di Dio può anche essere espressa con l'immagine della maternità, che indica ancor meglio l'immanenza di Dio, l'intimità tra Dio e la sua creatura. Il linguaggio della fede si rifà così all'esperienza umana dei genitori che, in certo qual modo, sono per l'uomo i primi rappresentanti di Dio. Tale esperienza, però, mostra anche che i genitori umani possono sbagliare e sfigurare il volto della paternità e della maternità. Conviene perciò ricordare che Dio trascende la distinzione umana dei sessi. Egli non è né uomo né donna. Egli è Dio. Trascende pertanto la paternità e la maternità umane, pur essendone l'origine e il modello. Nessuno è padre quanto Dio. Gesù ha rivelato che Dio è padre in un senso inaudito. Non lo è soltanto in quanto creatore. Egli è eternamente padre in relazione al figlio suo unigenito, il quale, a sua volta, non è figlio che in relazione al padre. Nessuno conosce il figlio se non il padre, e nessuno conosce il padre se non il figlio e colui al quale il figlio lo voglia rivelare. Per questo gli apostoli confessano Gesù come il verbo, che in principio era presso Dio, il verbo che era Dio, come l'immagine del Dio invisibile, come l'irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza. Sulla loro scia, seguendo la tradizione apostolica, la Chiesa del 325, nel primo concilio ecumenico di Nicea, ha confessato che il figlio è consustanziale al padre, cioè un solo Dio con lui. Il secondo concilio ecumenico, riunito a Costantinopoli nel 381, ha conservato tale espressione nella sua formulazione del credo di Nicea, ed ha confessato il figlio unigenito di Dio, generato dal padre prima di tutti i secoli, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del padre. Il padre e il figlio rivelati dallo spirito. Prima della sua Pasqua, Gesù annunzia l'invio di un altro paraclito, lo Spirito Santo. Lo Spirito che opera sin dalla creazione che già aveva parlato per mezzo dei profeti, simbolo di Nicea Costantinopoli, dimorerà presso i discepoli e sarà in loro per insegnare loro ogni cosa e guidarli alla verità tutta intera. Lo Spirito Santo è in tal modo rivelato come un'altra persona divina in rapporto a Gesù e al padre. L'origine eterna dello Spirito si rivela nella sua missione nel tempo. Lo Spirito Santo è inviato agli Apostoli e alla Chiesa sia dal padre nel nome del figlio, sia dal figlio in persona dopo il suo ritorno al padre. L'invio della persona dello Spirito dopo la glorificazione di Gesù rivela in pienezza il mistero della Santa Trinità. La fede apostolica riguardante lo Spirito è stata confessata dal secondo concilio ecumenico nel 381 a Costantinopoli. Crediamo nello Spirito Santo che è Signore e da vita, che procede dal padre. Così la Chiesa riconosce il padre come la fonte e l'origine di tutta la divinità. L'origine eterna dello Spirito Santo non è tuttavia senza legame con quella del figlio. Lo Spirito Santo, che è la terza persona della Trinità, è Dio, uno e uguale al padre e al figlio, della stessa sostanza e anche della stessa natura. Tuttavia non si dice che egli è soltanto lo Spirito del padre, ma che è ad un tempo lo Spirito del padre e del figlio. Il credo del concilio di Costantinopoli della Chiesa confessa con il padre e con il figlio è adorato e glorificato. La tradizione latina del credo confessa che lo Spirito procede dal padre e dal figlio, filioque. Il concilio di Firenze, nel 1439, è esplicita. Lo Spirito Santo ha la sua essenza e il suo essere sussistente ad un tempo dal padre e dal figlio e procede eternamente dall'uno e dall'altro come da un solo principio e per una sola aspirazione. E poiché tutto quello che è del padre, lo stesso padre lo ha donato al suo unico figlio generandolo, ad eccezione del suo essere padre. Anche questo procedere dello Spirito Santo a partire dal figlio lo riceve dall'eternità dal suo padre che ha generato il figlio stesso. L'affermazione del figlioque mancava nel simbolo confessato a Costantinopoli nel 381, ma sulla base di un'antica tradizione latina e alessandrina, il Papa San Leone l'aveva già dogmaticamente confessata nel 447, prima che Roma conoscesse e ricevesse nel 451, durante il concilio di Calcedonia, il simbolo del 381. L'uso di questa formula nel credo è entrato a poco a poco nella liturgia latina tra i secoli VIII e XI. L'introduzione del figlioque nel simbolo di Nicea Costantinopoli da parte della liturgia latina costituisce tuttavia ancora oggi un punto di divergenza con le chiese ortodosse. La tradizione orientale mette innanzitutto in rilievo che il padre in rapporto allo spirito è l'origine prima. Confessando che lo spirito procede dal padre afferma che lo spirito procede dal padre attraverso il figlio. La tradizione occidentale dà maggior risalto alla comunione consustanziale tra il padre e il figlio affermando che lo spirito procede dal padre e dal figlio figlioque. Lo dice lecitamente e ragionevolmente infatti l'ordine eterno delle persone divine nella loro comunione consustanziale implica che il padre sia l'origine prima dello spirito in quanto principio senza principio ma pure che in quanto padre del figlio unigenito egli con lui sia l'unico principio dal quale procede lo spirito santo. Questa legittima complementarietà se non viene inasprita non scalfisce l'identità della fede nella realtà del medesimo mistero confessato. La Santa Trinità nella dottrina della fede. La formazione del dogma trinitario La verità rivelata della Santa Trinità è stata fin dalle origini alla radice della fede vivente della Chiesa principalmente per mezzo del battesimo. Trova la sua espressione nella regola della fede battesimale formulata nella predicazione nella catechesi e nella preghiera della Chiesa. Simili formulazioni compaiono già negli scritti apostolici come ad esempio questo saluto ripreso nella liturgia eucaristica La grazia del Signore Gesù Cristo l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Nel corso dei primi secoli la Chiesa ha cercato di formulare in maniera più esplicita la sua fede trinitaria sia per approfondire la propria intelligenza della fede sia per difenderla contro errori che la alteravano. Fu questa l'opera degli antichi concili aiutati dalla ricerca teologica dei padri della Chiesa e sostenuti dal senso della fede del popolo cristiano. Per la formulazione del dogma della Trinità la Chiesa ha dovuto sviluppare una terminologia propria ricorrendo a nozioni di origine filosofica sostanza persona o ipostasi relazione eccetera. Così facendo non ha sottoposto la fede ad una sapienza umana ma ha dato un significato nuovo insolito questi termini assunti ora a significare anche un mistero inesprimibile infinitamente al di là di tutto ciò che possiamo concepire a misura d'uomo. La Chiesa adopera il termine sostanza reso talvolta anche con essenza o natura per disegnare l'essere divino nella sua unità il termine persona o ipostasi per disegnare il padre il figlio e lo spirito santo nella loro reale distinzione reciproca il termine relazione per disegnare il fatto che la distinzione tra le persone divine sta nel riferimento delle une alle altre. Il dogma della Santa Trinità La Trinità è una noi non confessiamo tre dei ma un Dio solo in tre persone la Trinità consustanziale le persone divine non si dividono l'unica divinità ma ciascuna di esse è Dio tutto intero il padre è tutto ciò che è il figlio il figlio tutto ciò che è il padre lo spirito santo tutto ciò che è il padre e il figlio cioè un unico Dio quanto alla natura. Ognuna delle tre persone è quella realtà cioè la sostanza l'essenza o la natura divina le persone divine sono realmente distinte tra loro Dio è unico ma non solitario padre figlio e spirito santo non sono semplicemente nomi che indicano modalità dell'essere divino essi infatti sono realmente distinti tra loro il figlio non è il padre il padre non è il figlio e lo spirito santo non è il padre o il figlio sono distinti tra loro per le loro relazioni di origine è il padre che genera il figlio che è generato lo spirito santo che procede l'unità divina è trina le persone divine sono relative le une alle altre la distinzione reale delle persone divine tra loro poiché non divide l'unità divina risiede esclusivamente nelle relazioni che le mettono in riferimento le une alle altre nei nomi relativi delle persone il padre è riferito al figlio il figlio al padre lo spirito santo all'uno e all'altro quando si parla di queste tre persone considerandone le relazioni si crede tuttavia in una sola natura o sostanza infatti tutto è una cosa sola in loro dove non si opponga la relazione per questa unità il padre è tutto nel figlio tutto nello spirito santo il figlio tutto nel padre tutto nello spirito santo lo spirito santo è tutto nel padre tutto nel figlio ai catecumeni di costantinopoli san gregorio annazianzeno detto anche il teologo consegna questa sintesi della fede trinitaria innanzitutto conservatemi questo prezioso deposito per il quale io vivo e combatto con il quale voglio morire che mi rende capace di sopportare ogni male e di disprezzare tutti i piaceri intendo dire la professione di fede nel padre nel figlio e nello spirito santo io oggi ve la fido con essa fra poco vi immergerò nell'acqua ed a essa vi trarrò ve la dono questa professione come compagna e patrona di tutta la vostra vita vi do una sola divinità e potenza che è uno in tre e contiene i tre in modo distinto divinità senza differenza di sostanza o di natura senza grado superiore che eleva o inferiore che abbassa di tre infiniti ed infinita con naturalità ciascuno considerato in sé è Dio tutto intiero Dio le tre persone considerate insieme ho appena appena incominciato a pensare all'unità ed eccomi immerso nello splendore della trinità ho appena incominciato a pensare alla trinità ed ecco che l'unità mi sazia le operazioni divine e le missioni trinitarie o luce trinità beata e originaria unità Dio è eterna beatitudine vita immortale luce senza tramonto Dio è amore padre figlio e spirito santo Dio liberamente vuol comunicare la gloria della sua vita beata tale è il disegno della sua benevolenza disegno che ha concepito prima della creazione del mondo nel suo figlio di letto predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo cioè ad essere conformi all'immagine del figlio suo in forza dello spirito da figli adottivi questo progetto è una grazia che ci è stata data fin dall'eternità e che ha come sorgente l'amore trinitario si dispiega nell'opera della creazione in tutta la storia della salvezza dopo la caduta nella missione del figlio e in quella dello spirito che si prolunga nella missione della chiesa tutta l'economia divina è l'opera comune delle tre persone divine infatti la trinità come ha una sola e medesima natura così ha una sola e medesima operazione il padre il figlio e lo spirito santo non sono tre principi della creazione ma un solo principio tuttavia ogni persona divina compie l'operazione comune secondo la sua personale proprietà così la chiesa rifacendosi al nuovo testamento professa uno infatti è dio padre dal quale sono tutte le cose uno il signore gesù cristo mediante il quale sono tutte le cose uno è lo spirito santo nel quale sono tutte le cose le missioni divine dell'incarnazione del figlio e del dono dello spirito santo sono quelle che particolarmente manifestano le proprietà delle persone divine tutta l'economia divina opera comune e insieme personale fa conoscere tanto la proprietà delle persone divine quanto la loro unica natura parimenti tutta la vita cristiana è comunione con ognuna delle persone divine senza in alcun modo separarle chi rende gloria al padre lo fa per il figlio nello spirito santo chi segue cristo lo fa perché il padre lo attira e perché lo spirito lo guida il fine ultimo dell'intera economia divina è che tutte le creature entrino nell'unità perfetta della beata trinità ma fin d'ora siamo chiamati ad essere abitati dalla santissima trinità se uno mi ama dice il signore osserverà la mia parola e il padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui oh mio dio trinità che adoro aiutami a dimenticarmi completamente per stabilirmi in te immobile e serena come se la mia anima fosse già nell'eternità nulla possa turbare la mia pace né farmi uscire da te oh mio immutabile ma che ogni minuto mi porti più addentro nella profondità del tuo mistero pacifica la mia anima fa nel tuo cielo la tua dimora amata è il luogo del tuo riposo che io non ti lasci mai sola ma che sia lì con tutta me stessa tutta vigile nella mia fede tutta adorante tutta offerta all'attuazione creatrice beata elisabetta della trinità paragrafo 3 l'onnipotente di tutti gli attributi divini nel simbolo si nomina soltanto l'onnipotenza di dio confessarla confessarla è di grande importanza per la nostra vita noi crediamo che tale onnipotenza è universale perché dio che tutto ha creato tutto governa e tutto può amante perché dio è nostro padre misteriosa perché la fede soltanto la può riconoscere allorché si manifesta nella debolezza egli opera tutto ciò che vuole le sacre scritture affermano a più riprese la potenza universale di dio egli è detto il potente di giacobbe il signore degli eserciti il forte il potente se dio è onnipotente in cielo e sulla terra è perché lui stesso li ha fatti nulla quindi gli è impossibile e dispone della sua opera come gli piace egli è il signore dell'universo di cui ha fissato l'ordine che rimane a lui interamente sottoposto e disponibile egli è il padrone della storia muove i cuori e guida gli avvenimenti secondo il suo beneplacito prevalere con la forza ti è sempre possibile chi potrà opporsi al potere del tuo braccio hai compassione di tutti perché tutto tu puoi dio è il padre onnipotente la sua paternità e la sua potenza si illuminano a vicenda infatti egli mostra la sua onnipotenza paterna nel modo in cui si prende cura dei nostri bisogni attraverso l'adozione filiale che ci dona sarò per voi come un padre e voi mi sarete come figli e figlie dice il signore onnipotente infine attraverso la sua infinita misericordia dal momento che egli manifesta al massimo grado la sua potenza perdonando liberamente i peccati l'onnipotenza divina non è affatto arbitraria in dio la potenza e l'essenza la volontà e l'intelligenza la sapienza e la giustizia sono una sola ed identica cosa di modo che nulla può esserci nella potenza divina che non possa essere nella giusta volontà di dio o nella sua sapiente intelligenza il mistero dell'apparente impotenza di dio la fede in dio padre onnipotente può essere messa alla prova dall'esperienza del male e dalla sofferenza talvolta dio può sembrare assente ed incapace di impedire il male ora dio padre ha rivelato nel modo più misterioso la sua onnipotenza nel volontario abbassamento e nella risurrezione del figlio suo per mezzo dei quali ha vinto il male cristo crocifisso è quindi potenza di dio e sapienza di dio perché ciò che è stoltezza di dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di dio è più forte degli uomini nella risurrezione e nella esaltazione di cristo il padre ha dispiegato l'efficacia della sua forza e ha manifestato la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti soltanto la fede può aderire alle vie misteriose dell'onnipotenza di dio per questa fede ci si gloria delle proprie debolezze per attirare su di sé la potenza di cristo di questa fede il supremo modello è la vergine maria la ferma persuasione dell'onnipotenza divina vale più di ogni altra cosa a corroborare in noi il doveroso sentimento della fede e della speranza la nostra ragione conquistata dall'idea della divina onnipotenza assentirà assentirà senza più dubitare a qualunque cosa sia necessario credere per quanto possa essere grande e meravigliosa o superiore alle leggi e all'ordine della natura anzi quanto più sublimi saranno le verità da dio rivelate tanto più agevolmente riterrà di dovervi assentire paragrafo 4 il creatore in principio dio creò il cielo e la terra con queste solenni parole incomincia la sacra scrittura il simbolo della fede le riprende confessando dio padre onnipotente come creatore del cielo e della terra di tutte le cose visibili e invisibili noi parleremo perciò innanzitutto del creatore poi della sua creazione in fine della caduta a causa del peccato da cui gesù cristo il figlio di dio è venuto a risollevarci la creazione è il fondamento di tutti i progetti salvifici di dio l'inizio della storia della salvezza che culmina in cristo inversamente il mistero di cristo è la luce decisiva sul mistero della creazione rivela il fine in vista del quale in principio dio creò il cielo e la terra dalle origini dio pensava alla gloria della nuova creazione in cristo per questo le letture della veglia pasquale celebrazione della nuova creazione in cristo iniziano con il racconto della creazione parimenti nella liturgia bizantina il racconto della creazione è sempre la prima lettura delle vigili e delle grandi feste del signore secondo la testimonianza degli antichi l'istruzione dei catecumeni per il battesimo segue lo stesso itinerario la catechesi sulla creazione la catechesi sulla creazione è di capitale importanza concerne i fondamenti stessi della vita umana e cristiana infatti esplicita la risposta della fede cristiana agli interrogativi fondamentali che gli uomini di ogni tempo si sono posti da dove veniamo dove andiamo qual è la nostra origine qual è il nostro fine da dove viene e dove va tutto ciò che esiste le due questioni quella dell'origine e quella del fine sono inseparabili sono decisive per il senso e l'orientamento della nostra vita e del nostro agire la questione delle origini del mondo e dell'uomo è oggetto di numerose ricerche scientifiche che hanno straordinariamente arricchito le nostre conoscenze sull'età e le dimensioni del cosmo sul divenire delle forme viventi sull'apparizione dell'uomo tali scoperte ci invitano ad una sempre maggiore ammirazione per la grandezza del creatore e a ringraziarlo per tutte le sue opere e per l'intelligenza e la sapienza di cui fa dono agli studiosi e ai ricercatori con Salomone costoro possono dire egli mi ha concesso la conoscenza infallibile delle cose per comprendere la struttura del mondo e la forza degli elementi perché mi ha istruito la sapienza artefice di tutte le cose il grande interesse di cui sono oggetto queste ricerche è fortemente stimolato da una questione di altro ordine che oltrepassa il campo proprio delle scienze naturali non si tratta soltanto di sapere quando e come si è assorto materialmente il cosmo né quando si è apparso l'uomo quanto piuttosto di scoprire quale sia il senso di tale origine se cioè sia governata dal caso da un destino cieco da una necessità anonima oppure da un essere trascendente intelligente e buono chiamato Dio e se il mondo proviene dalla sapienza e dalla bontà di Dio perché il male da dove viene chi ne è responsabile c'è una liberazione da esso fin dagli inizi la fede cristiana è stata messa a confronto con risposte diverse dalla sua circa la questione delle origini infatti nelle religioni e nelle culture antiche si trovano numerosi miti riguardanti le origini certi filosofi hanno affermato che tutto è Dio che il mondo è Dio o che il divenire del mondo è il divenire di Dio panteismo altri hanno detto che il mondo è una emanazione necessaria di Dio che scaturisce da questa sorgente e ad essa ritorna altri ancora hanno sostenuto l'esistenza di due principi eterni il bene e il male la luce e le tenebre in continuo conflitto dualismo manicheismo secondo alcune di queste concezioni il mondo almeno il mondo materiale sarebbe cattivo prodotto di un decadimento e quindi da rispingere o oltrepassare gnosi altri ammettono che il mondo sia stato fatto da Dio ma alla maniera di un orologiaio che una volta fatto l'avrebbe abbandonato a se stesso Deismo altri infine non ammettono alcuna origine trascendente del mondo ma vedono in esso il puro gioco di una materia che sarebbe sempre esistita materialismo tutti questi tentativi di spiegazione stanno a testimoniare la persistenza e l'universalità del problema delle origini questa ricerca è propria dell'uomo indubbiamente l'intelligenza umana può già trovare una risposta al problema delle origini infatti è possibile conoscere con certezza l'esistenza di Dio creatore attraverso le sue opere grazie alla luce della ragione umana anche se questa conoscenza spesso è offuscata e sfigurata dall'errore per questo la fede viene a confermare e a far luce alla ragione nella retta intelligenza di queste verità per fede sappiamo che i mondi furono formati dalla parola di Dio sì che da cose non visibili ha preso origine ciò che si vede la verità della creazione è tanto importante per l'intera vita umana che Dio nella sua tenerezza ha voluto rivelare al suo popolo tutto ciò che al riguardo è necessario conoscere al di là della conoscenza naturale che ogni uomo può avere del creatore Dio ha progressivamente rivelato ad Israele il mistero della creazione egli che ha scelto i patriarchi che ha fatto uscire Israele dall'Egitto e che leggendo Israele l'ha creato e formato si rivela come colui al quale appartengono tutti i popoli della terra e l'intera terra come colui che solo ha fatto cielo e terra la rivelazione della creazione è così inseparabile dalla rivelazione e dalla realizzazione dell'alleanza di Dio l'unico con il suo popolo la creazione è rivelata come il primo passo verso tale alleanza come la prima e universale testimonianza dell'amore onnipotente di Dio e poi la verità della creazione si esprime con una forza crescente nel messaggio dei profeti nella preghiera dei salmi e della liturgia nella riflessione della sapienza del popolo eletto tra tutte le parole della sacra scrittura sulla creazione occupano un posto singolarissimo i primi tre capitoli della Genesi dal punto di vista letterario questi testi possono avere diverse fonti gli autori ispirati li hanno collocati all'inizio della scrittura in modo che esprimano con il loro linguaggio solenne la verità della creazione della sua origine e del suo fine in Dio del suo ordine e della sua bontà della vocazione dell'uomo infine del dramma del peccato e della speranza della salvezza lette alla luce di Cristo nell'unità della sacra scrittura e della tradizione vivente della Chiesa queste parole restano la fonte principale per la catechesi dei misteri delle origini creazione caduta promessa della salvezza la creazione opera della Santissima Trinità in principio Dio creò il cielo e la terra queste prime parole della scrittura contengono tre affermazioni il Dio eterno ha dato un inizio a tutto ciò che esiste fuori di lui egli solo è creatore il verbo creare in ebraico bara ha sempre come soggetto Dio la totalità di tutto ciò che esiste espressa nella formula il cielo e la terra dipende da colui che gli dà di essere in principio era il verbo e il verbo era Dio tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto il nuovo testamento rivela che Dio ha creato tutto per mezzo del verbo eterno il figlio suo diletto per mezzo di lui sono state create tutte le cose quelle nei cieli e quelle sulla terra tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono la fede della chiesa afferma pure l'azione creatrice dello spirito santo egli è il datore di vita lo spirito creatore la sorgente di ogni bene lasciata intravedere nell'antico testamento rivelata nella nuova alleanza l'azione creatrice del figlio e dello spirito inseparabilmente una con quella del padre è chiaramente affermata dalla regola di fede della chiesa non esiste che un solo Dio egli è il padre è Dio il creatore l'autore l'ordinatore egli ha fatto ogni cosa da se stesso cioè con il suo verbo e la sua sapienza per mezzo del figlio e dello spirito che sono come le sue mani la creazione è l'opera comune della Santissima Trinità il mondo è stato creato per la gloria di Dio è una verità fondamentale che la scrittura e la tradizione costantemente insegnano e celebrano il mondo è stato creato per la gloria di Dio Dio ha creato tutte le cose spiega San Bonaventura non per accrescere la propria gloria ma per manifestarla e per comunicarla infatti Dio non ha altro motivo per creare se non il suo amore e la sua bontà aperta la mano dalla chiave dell'amore le creature vennero la luce e il concilio Vaticano I spiega nella sua bontà e con la sua onnipotente virtù non per aumentare la sua beatitudine né per acquistare perfezione ma per manifestarla attraverso i beni che concede alle sue creature questo solo vero Dio ha con la più libera delle decisioni insieme e dall'inizio dei tempi creato dal nulla l'una e l'altra creatura la spirituale e la corporale la gloria di Dio è che si realizzi la manifestazione e la comunicazione della sua bontà in vista delle quali il mondo è stato creato fare di noi i suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo è il benevolo disegno della sua volontà all'ode gloria della sua grazia infatti la gloria di Dio è l'uomo vivente e la vita dell'uomo è la visione di Dio se già la rivelazione di Dio attraverso la creazione procurò la vita a tutti gli esseri che vivono sulla terra quanto più la manifestazione del padre per mezzo del verbo dalla vita a coloro che vedono Dio il fine ultimo della creazione è che Dio che di tutti è il creatore possa anche essere tutto in tutti procurando ad un tempo la sua gloria e la nostra felicità il mistero della creazione Dio crea con sapienza e amore noi crediamo che il mondo è stato creato da Dio secondo la sua sapienza non è il prodotto di una qualsivoglia necessità di un destino cieco o del caso noi crediamo che il mondo trae origine dalla libera volontà di Dio il quale ha voluto far partecipare le creature al suo essere alla sua saggezza e alla sua bontà tu hai creato tutte le cose e per la tua volontà furono create e sussistono quanto sono grandi signore le tue opere tutto hai fatto con saggezza buono è il signore verso tutti la sua tenerezza si espande su tutte le creature Dio crea dal nulla noi crediamo che Dio per creare non ha bisogno di nulla di preesistente né di alcun aiuto la creazione non è neppure una emanazione necessaria della sostanza divina Dio crea liberamente dal nulla che vi sarebbe di straordinario se Dio avesse tratto il mondo da una materia preesistente un artigiano umano quando gli si dà un materiale ne fa tutto ciò che vuole invece la potenza di Dio si manifesta precisamente in questo che egli parte dal nulla per fare tutto ciò che vuole la fede nella creazione dal nulla è attestata nella scrittura come una verità piena di promessa e di speranza così la madre dei sette figli li incoraggia al martirio non so come siate apparsi nel mio seno non io vi ho dato lo spirito e la vita né io ho dato forma alle membra di ciascuno di voi senza dubbio il creatore del mondo che ha plasmato all'origine l'uomo e ha provveduto alla generazione di tutti per la sua misericordia vi restituirà di nuovo lo spirito e la vita come voi ora per le sue leggi non vi curate di voi stessi ti scongiuro figlio contempla il cielo e la terra osserva quanto vi è in essi e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti tale è anche l'origine del genere umano Dio poiché può creare dal nulla può anche per opera dello spirito santo donare ai peccatori la vita dell'anima cercando in essi un cuore puro e ai defunti con la risurrezione la vita del corpo egli che dà la vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che ancora non esistono e dal momento che con la sua parola ha potuto far risplendere la luce dalle tenebre può anche donare la luce della fede a coloro che non lo conoscono Dio crea un mondo ordinato e buono per il fatto che Dio crea con sapienza la creazione ha un ordine tu hai disposto tutto con misura calcolo e peso creata nel e per mezzo del verbo eterno immagine del Dio invisibile la creazione è destinata indirizzata all'uomo immagine di Dio chiamato a una relazione personale con Dio la nostra intelligenza poiché partecipa alla luce dell'intelletto divino può comprendere ciò che Dio ci dice attraverso la creazione certo non senza grande sforzo e in spirito di umiltà e di rispetto davanti al creatore e alla sua opera scaturita dalla bontà divina la creazione partecipa di questa bontà e Dio vide che era cosa buona cosa molto buona la creazione infatti è voluta da Dio come un dono fatto all'uomo come un'eredità a lui destinata e affidata la chiesa a più riprese ha dovuto difendere la bontà della creazione compresa quella del mondo materiale Dio trascende la creazione ed è ad essa presente Dio è infinitamente più grande di tutte le sue opere sopra i cieli si innalza la sua magnificenza la sua grandezza non si può misurare ma poiché egli è il creatore sovrano e libero causa prima di tutto ciò che esiste egli è presente nell'intimo più profondo delle sue creature in lui viviamo ci muoviamo ed esistiamo secondo le parole di Sant'Agostino egli è più intimo della mia parte più intima più alto della mia parte più alta Dio conserva e regge la creazione dopo averla creata Dio non abbandona se stessa la sua creatura non le dona soltanto di essere e di esistere la conserva in ogni istante dell'essere le dà la facoltà di agire e la conduce al suo termine riconoscere questa completa dipendenza in rapporto al creatore è fonte di sapienza e di libertà di gioia di fiducia tu ami tutte le cose esistenti e nulla disprezzi di quanto hai creato se tu avessi odiato qualcosa non l'avresti neppure creata come potrebbe sussistere una cosa se tu non vuoi o conservarsi se tu non l'avessi chiamata l'esistenza tu risparmi tutte le cose perché tutte sono tue Signore amante della vita Dio realizza il suo disegno la providenza divina la creazione ha la sua propria bontà e perfezione ma non è uscita dalle mani del creatore interamente compiuta è creata in stato di via in statu vie verso una perfezione ultima alla quale Dio l'ha destinata ma che ancora deve essere raggiunta chiamiamo divina providenza le disposizioni per mezzo delle quali Dio conduce la creazione verso questa perfezione Dio conserva e governa con la sua providenza tutto ciò che ha creato essa si estende da un confine all'altro con forza governa con bontà eccellente ogni cosa infatti tutto è nudo e scoperto agli occhi suoi anche quello che sarà fatto dalla libera azione delle creature la testimonianza della scrittura è unanime la sollecitudine della divina providenza è concreta e immediata essa si prende cura di tutto dalle più piccole cose fino ai grandi eventi del mondo e della storia con forza i libri sacri affermano la sovranità assoluta di Dio sul corso degli avvenimenti il nostro Dio è nei cieli e gli opera tutto ciò che vuole e di Cristo si dice quando egli apre nessuno chiude e quando chiude nessuno apre molte sono le idee della mente dell'uomo ma solo il disegno del Signore resta saldo spesso si nota che lo Spirito Santo autore principale della Sacra Scrittura attribuisce delle azioni a Dio senza far cenno a cause seconde non si tratta di un modo di parlare primitivo ma di una maniera profonda di richiamare il primato di Dio e la sua signoria assoluta sulla storia e sul mondo educando così alla fiducia in Lui la preghiera dei salmi è la grande scuola di questa fiducia Gesù chiede un abbandono filiale alla providenza del Padre Celeste il quale si prende cura dei più elementari bisogni dei Suoi figli non affanatevi dunque dicendo che cosa mangeremo che cosa berremo che cosa indosseremo il Padre vostro Celeste infatti sa che ne avete bisogno cercate prima il Regno di Dio e la Sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta la providenza e le cause seconde Dio è il padrone sovrano del suo disegno però per realizzarlo si serve anche della cooperazione delle creature questo non è un segno di debolezza bensì della grandezza e della bontà di Dio onnipotente infatti Dio alle sue creature non dona soltanto l'esistenza ma anche la dignità di agire esse stesse di essere causa e principio le une delle altre e di collaborare in tal modo al compimento del suo disegno Dio dà agli uomini anche il potere di partecipare liberamente alla sua providenza affidando loro la responsabilità di soggiogare la terra e di dominarla in tal modo Dio fa dono agli uomini di essere cause intelligenti e libere per completare l'opera della creazione perfezionandone l'armonia per il loro bene e per il bene del loro prossimo cooperatori spesso inconsapevoli della volontà divina gli uomini possono entrare deliberatamente nel piano divino con le loro azioni le loro preghiere ma anche con le loro sofferenze allora diventano in pienezza collaboratori di Dio Dio agisce in tutto l'agire delle sue creature è una verità inseparabile dalla fede in Dio creatore Egli è la causa prima che opera nelle e per mezzo delle cause seconde è Dio infatti che suscita in noi il volere e l'operare secondo i suoi benevoli diseni lungi dallo sminuire la dignità della creatura questa verità la cresce infatti la creatura tratta dal nulla dalla potenza dalla sapienza e dalla bontà di Dio niente può se è separata dalla propria origine perché la creatura senza il creatore svanisce ancor meno può raggiungere il suo fine ultimo senza l'aiuto della grazia la providenza è lo scandalo del male se Dio Padre Onnipotente creatore del mondo ordinato e buono si prende cura di tutte le sue creature perché esiste il male a questo interrogativo tanto pressante quanto inevitabile tanto doloroso quanto misterioso nessuna rapida risposta potrà bastare è l'insieme della fede cristiana che costituisce la risposta a tale questione la bontà della creazione il dramma del peccato l'amore paziente di Dio che viene incontro all'uomo con le sue alleanze con l'incarnazione redentrice del suo figlio con il dono dello spirito con il radunare la chiesa con la forza dei sacramenti con la vocazione ad una vita felice alla quale le creature libere sono invitate a dare il loro consenso ma alla quale per un mistero terribile possono anche sottrarsi non c'è un punto del messaggio cristiano che non sia per un certo aspetto una risposta al problema del male ma perché Dio non ha creato un mondo a tal punto perfetto da non potervi essere alcun male nella sua infinita potenza Dio potrebbe sempre creare qualcosa di migliore tuttavia nella sua sapienza e nella sua bontà infinite Dio ha liberamente voluto creare un mondo in stato di via verso la sua perfezione ultima questo divenire nel disegno di Dio comporta con la comparsa di certi esseri la scomparsa di altri con il più perfetto anche il meno perfetto con le costruzioni della natura anche le distruzioni quindi insieme con il bene fisico esiste anche il male fisico finché la creazione non avrà raggiunto la sua perfezione gli angeli e gli uomini creature intelligenti e libere devono camminare verso il loro destino ultimo per una libera scelta e un amore di preferenza e si possono quindi deviare in realtà hanno peccato è così che nel mondo è entrato il male morale incommensurabilmente più grave del male fisico Dio non è in alcun modo né direttamente né indirettamente la causa del male morale però rispettando la libertà della sua creatura lo permette e misteriosamente s'attrarne il bene infatti Dio onnipotente essendo supremamente buono non permetterebbe mai che un qualsiasi male esistesse nelle sue opere se non fosse sufficientemente potente buono da trarre dal male stesso il bene così col tempo si può scoprire che Dio nella sua providenza onnipotente può trarre un bene dalle conseguenze di un male anche morale causato dalle sue creature non siete stati voi dice Giuseppe ai suoi fratelli a mandarmi qui ma Dio se voi avete pensato del male contorno di me Dio ha pensato di farlo servire a un bene per far vivere un popolo numeroso dal più grande male morale tale che mai sia stato commesso il rifiuto e l'uccisione del figlio di Dio causata dal peccato di tutti gli uomini Dio con la sovrabbondanza della sua grazia ha tratto i più grandi beni la glorificazione di Cristo e la nostra redenzione con ciò però il male non diventa un bene tutto concorre al bene di coloro che amano Dio la testimonianza dei santi non cessa di confermare questa verità così Santa Caterina da Siena dice a coloro che si scandalizzano e si ribellano davanti a ciò che loro capita tutto viene dall'amore tutto è ordinato alla salvezza dell'uomo Dio non fa niente se non a questo fine e Santo Masomoro poco prima del martirio consola la figlia nulla accade che Dio non voglia e io sono sicuro che qualunque cosa avvenga per quanto cattiva paia sarà in realtà sempre per il meglio e Giuliana di Norwich imparai dalla grazia di Dio che dovevo rimanere fermamente nella fede e quindi dovevo saldamente e perfettamente credere che tutto sarebbe finito in bene tu stessa vedrai che ogni specie di cosa sarà per il bene noi crediamo fermamente che Dio è il Signore del mondo e della storia ma le vie della sua providenza spesso ci rimangono sconosciute solo alla fine quando avrà termine la nostra conoscenza imperfetta e vedremo Dio a faccia a faccia conosceremo pienamente le vie lungo le quali anche attraverso i drammi del male e del peccato Dio avrà condotto la sua creazione fino al riposo di quel sabato definitivo in vista del quale ha creato il cielo e la terra grazie a tutti